Sono Arianna, ho 21 anni e sto frequentando il secondo anno dell'Accademia di Alta Oreficeria Pomellato Virtuosi qui in Galdus. L'Accademia di Alta Oreficeria di Galdus ci permette di sperimentare diversi ambiti riguardanti appunto l'oreficeria, partendo ad esempio dalle basi del laboratorio, quindi come si tiene in mano un'anima o come si può tagliare con l'uso dell'archetto, fino ad arrivare all'incisione, all'utilizzo degli smatti a fuoco o ancora dell'incazzatura. A proposito di incassatura, riusciamo anche a collaborare e poter seguire delle lezioni presentate direttamente dall'IGI, ovvero l'Istituto Gemmologico Italiano, che ci permette di conoscere al meglio tutto il mondo che sta attorno alle pietre e alle gemme. Creatività, opportunità e diciamo trampolino di lancio per la mia carriera.